Noi collaboriamo con ESA ormai da 15 anni, abbiamo un rapporto di collaborazione stretto, siamo concessionari per la provincia di Lecco, ci troviamo molto bene, chiaramente utilizziamo le nuove tecnologie che ESA offre, sia per quanto riguarda le installazioni di sistemi di sicurezza, quindi impianti di allarme, che la parte videosorveglianza. Adesso da dicembre abbiamo iniziato a utilizzare anche le centrali 40, è stato un banco di prova importante, soprattutto in considerazione del fatto che le installazioni delle centrali 40 sono state fatte presso clienti particolarmente esigenti, per cui abbiamo prima fatto dei corsi di formazione, quindi abbiamo mandato i tecnici in questi corsi di formazione e poi abbiamo installato queste nuove centrali che sicuramente sono all'avanguardia. la nuova versione che hanno presentato ieri offre altre potenzialità e quindi sicuramente è un prodotto all'avanguardia per quanto riguarda i sistemi di allarme. Grazie a tutti! Grazie a tutti!